La pandemia segna uno dei momenti peggiori quanto a contagi e ricoveri, ma dopo i dati diffusi ieri dal presidente della regione Fedriga è evidente come sia la comunità Novax a mettere in crisi gli ospedali con oltre il 90% di non vaccinati nelle terapie intensive e più del 60% nelle aree mediche. Se tutti fossero vaccinati la regione sarebbe in zona bianca. Ecco che dunque in prospettiva l'auspicio dell'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi è quello di progettare una svolta rispetto alla vita ai tempi del covid al termine di questa ondata. Separando le persone vaccinate da quelle non vaccinate e considerando che le persone vaccinate hanno il rischio di non aver bloccata l'influenzione ma riprendersela però hanno per effetto del vaccino la buona probabilità in condizioni normali di non andare dentro un ospedale e di avere una condizione di asintomatologia. Quindi il nodo è questo secondo me se probabilmente non con questi numeri perché i numeri sono veramente alti in questo momento ma se questa condizione ci può far dire che questa pandemia è diventata un'endemia e quindi i comportamenti, le regole, le procedure che devono essere applicate possono essere derubricate ad un elemento di una infezione che sicuramente ti può far venire l'influenza, ti può far venire un forte raffreddore. Insomma io quando ero bambino e avevo l'influenza mia mamma non mi mandava a scuola. Si stava a casa un bel po' di giorni. Allora questo secondo me è il nodo attorno al quale, però questa lo deve dire la scienza, possiamo discuterlo noi perché qui c'è il più figo di tutti che viene a dire che si fa così e nella vita fa l'idraulico, con tutto rispetto per l'idraulico. Intanto il Ministero della Salute ha colto la richiesta delle regioni sul caso degli asintomatici in reparti non covid, cioè i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal coronavirus che risultino positivi al tampone ma sintomatici. Qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia saranno conteggiati come caso covid ma non saranno inseriti tra i ricoveri dell'area medica. Ciò fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti, un tema ritenuto da più parti decisivo per non falsare i dati sulle ospedalizzazioni.